L'Associazione di Cultura e Politica Chieti Nuova 3 Febbraio, in collaborazione con l'Uni3 e con alcune scuole di Chieti, hanno dedicato una giornata di analisi e riflessioni ai principi ispiratori della Costituzione e al compito della memoria come diritto-dovere civile. Con la partecipazione del prefetto di Chieti, Armando Forgione, e di quello di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, si sono confrontati presso l'Istituto Tecnico Gagliani, De Sterlich, i suoi studenti con quelli degli istituti Luigi di Savoia, Pomiglio e del liceo scientifico Masci. Il concetto della libertà, quanto mai contemporaneo, considerati eventi di guerra che soffiano, come stanno ricependo i ragazzi in questo momento gli eventi? I ragazzi devono essere guidati a quello che è un percorso che adesso il Ministro ha voluto reintrodurre nelle scuole, la sperimentazione di educazione civica. Ed è una sperimentazione triennale, dunque questo percorso va a inserirsi in una più ampia rilettura della Costituzione all'interno dei curricoli scolastici.